i cavalli sanno ormai andando agli ordini dello starter è valido il primo segnale, hanno girato tutti piuttosto bene quelli della prima fila filtrati però infilati all'interno dal si porta al comando fly fox che ha ottenuto il via libera da fred sonic run la terza posizione per fabian mail davanti a fremon cr che è quello partito meglio dalla seconda fila quinto è filo sdipoggio che sposta all'esterno e cerca di recuperare intanto supera fremon cr si porta in quarta posizione falloso a ripetizione fiel theory thor e poi problemi anche per felisiano par che è in coda e anche per forever zs continua in avanti fly fox quando siamo al completamento della seconda curva è il mezzo miglio iniziale che va via in 1 e 2 con fabian mail che ha anticipato le mosse di filo sdipoggio e va deciso su fly fox nel tentativo di togliergli il comando quando siamo al paletto di metà gara completata in 1 16 8 perché davanti alle tribune c'è stato un parziale in 14 e mezzo fabian mail così ha tolto il comando a fly fox avendo all'esterno filo sdipoggio la quarta posizione è per fred sonic run che prende la scia di filo sdipoggio mentre sbaglia fly fox filo sdipoggio che attacca fabian mail a traguardo lontano avendo nella scia un interessato fred sonic run e poi si avvicina anche fred sonic run che però difende ancora la posizione interna quando il miglio è completato in 2 e 2 secco è passato ora filo sdipoggio lo insegue prontamente fred sonic run mentre su fabian mail ormai esausto avanza fred cj in terza posizione la retta d'arrivo con filo sdipoggio al comando fred sonic run che tenta l'attacco più indietro froid cj filo sdipoggio che si difende bene da fred sonic run filo sdipoggio che prosegue in vantaggio e conclude nelle mani di alessandro cocciadoro davanti a fred sonic run e froid cj per i numeri 5 2 6 questo l'arrivo ufficioso da seconda e capannelle 2 32 2 sul mio cronometro per gli ultimi 2000 metri sarà dunque media intorno all'1 16 2 1 16 3 considerando i primi 60 metri più lenti vittoria del favorito filo sdipoggio da maragia i colori di jean pierre barjon la guida e il training di alessandro gocciadoro si libera di fabia mail ai 500 finali e controlla il tentativo di fred sonic run che secondo ad una lunghezza abbondante al terzo emerge freud cj in un campo decisamente falcidiato dalle rotture è tutto linea lo studio a milena paolini grazie a tutti grazie a tutti